Non ci diamo, da quei visite di capisci e non c'è nessuna forza, non ci diamo qui, dai. Sanzone. Sanzone. E che è la mia barba, se non è che a barba non so io, eh. Zed, ma magari c'è la fusima, non c'è tutto. Alla Grecia. Alla Grecia. Zeru, ragazzi, ora... Ma senti il tuo più grande amico di Spineto, e non dico in generale. Zed, ragazzo, Zed, positivo. Allora, ora faccio un annuncio, Zed. Ci sarà su YouTube la tua storia, diciamo. Adesso siamo partiti con il primo video, adesso inserirò anche questo e poi altri. Tutti i tuoi eventi, le tue battute, le tue sbornie. Vabbè, vabbè, guarda, dai. YouTube è un qualcosa di libero, è libertà. Zed, tu che è malo. Positivo, cazzo. Vabbè, vabbè, un saluto, Zed. Ciao, ragazzi. No, un saluto serio, dai. Ciao, ragazzi. Appassionati della rete. Un saluto al vostro amico Zed. Alla prossima. Ciao.